ma vi parlavo dei cagnuzzi, guardate ci sono due gatti meravigliosi vicino alla Marini ma io voglio andare da dei cani, mi fate andare per favore a vedere tutti quei cagnuzzi belli salve naturalmente a Michela Vittoria Brambilla e fatemi, oh che gatto meraviglioso che hai mi fai vedere quel gattone, come si chiama? Alzalo, alzalo, fammi vedere eccolo qua, è un ex arrandagione stupendo che si chiama Dipsy e ho voluto che fosse con me perché poi ci sono collegati tanti cani, ma noi abbiamo ritirato anche tanti mici da persone che hanno perso la loro battaglia contro il Covid e quindi anche a loro dobbiamo trovare una casa infatti, allora facciamo vedere i cani, mentre parla Maria Vittoria Brambilla andiamo da tutti i vari cagnuzzi, salutiamoli tutti quanti così Michela spiega bene che cosa si fa guardate, questi sono tutti cani che aspettano un papà e una mamma perché sono i cani che sono stati, magari purtroppo erano i cani di alcune vittime del Covid e sono lì rimasti da soli, andiamo a vederne altri, parla parla Michela proprio in questi termini Barbara, noi abbiamo istituito questo servizio lei da per emergenza Covid, per cui la Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente e da una parte porta a spasso i cagnolini di chi è in isolamento, in quarantena in tutta Italia che hanno delle esigenze, quindi parliamo di centinaia di volontari in tutta Italia e dall'altra però abbiamo ritirato i cani di chi o è stato ricoverato e quindi poi felicemente glieli riportiamo o purtroppo ha perso la sua battaglia contro il Covid e stiamo ahimè parlando di tantissimi cani e tantissimi gatti e Barbara io sono decenni che sono in prima linea a difendere gli animali ma scene così strazianti io non le ricordo perché questi cani, questi gatti in un colpo solo perdono la mamma, il papà e la casa e sai chi soffre di più? Addirittura i gatti perché i miei volontari sono meravigliosi, lì ne vedi una rappresentanza io non finirò mai di ringraziarli mi portano anche a casa loro perdonami ti devo interrompere, tanto abbiamo fatto questo appello importantissimo ma io devo dare in diretta i dati come faccio tutti i giorni eccoli là, allora questi sono i dati appena comunicati dalla protezione civile nuovi positivi 992, guariti 2747, vittime 262, positivi attuali meno 2017 questi sono i dati ed è fondamentale tutti i giorni noi vi aggiorniamo perché è fondamentale che voi sappiate e seguiate appunto la curva discendente in questo momento per fortuna, sempre perché lo dico, il virus c'è ancora e quindi dopo aver ringraziato l'ottimo lavoro di Michela Vittoria Brambilla insieme a tutti quanti i suoi volontari che si occupa di tutti i cani e i gatti che sono rimasti soli proprio a causa di questo virus come lo chiamo io bastardo e quindi veramente un ottimo lavoro e invece siamo passati dai gatti ad altri gatti che vedo lì